Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi, si torna sempre dove si è stati bene ed è per questo che io sono tornata nel 7 di prima ma soprattutto è per questo che Kanye West dovrebbe tornare in clinica dunque oggi parliamo di Kanye West, ancora lui, uno dei personaggi più discussi e soprattutto più problematici nel mondo dello spettacolo o forse nel mondo in generale, questo è addirittura il settimo capitolo della Kanye West saga se volete potete recuperare tutti i precedenti capitoli della Kanye West saga attraverso questa playlist vi lascio qui il rettangolino grigio ma ragazzi è giusto che lo sappiate iniziarla è pericoloso è qualcosa da cui non si torna indietro la Kanye West saga, ti cambia dentro in ogni caso questo video ovviamente sarà fruibile a tutti anche a chi non se la sente di intraprendere questo percorso spirituale allora a questo giro Kanye West ha sollevato polemiche perché? per il modo in cui, come dire, mortifica la sua nuova moglie ebbene sì, Kanye West ha una nuova moglie il che di per sé è già scandaloso per di più i suoi strani, bizzarri e controversi comportamenti lo hanno fatto finire al centro di un'inquietante teoria del complotto che si basa principalmente sul disperato bisogno di credere che ci sia qualcosa di fantascientifico dietro le cavolate di Kanye West perché non è veramente possibile prima di iniziare il nostro viaggio nell'inquietante paese delle merdavie di Kanye West voglio rispondere a una domanda che ne sono sicura molti di voi si pongono ogni giorno quale browser uso? Opera! Opera è un browser che ha deciso di puntare tutto sull'intelligenza la vedete questa barra laterale? lei è la sidebar e attraverso la sidebar avrete accesso istantaneo a Whatsapp, Instagram, TikTok, Telegram e soprattutto Aria Aria è l'intelligenza artificiale sviluppata da Opera che risponderà alle vostre domande dove è Kanye West? tutto ciò che c'è nella sidebar potete aprirlo ma senza dover aprire altre finestre che vi incasinano qua sopra è come avere una specie di Pokédex sullo schermo cioè è uno schermino a parte a forma di smartphone che si può comodamente aprire e chiudere, aprire e chiudere, aprire e chiudere evitando l'affollamento di schede che non so voi ragazzi ma è il mio incubo peggiore ma grazie a Opera ho risolto anche questo problema della mia vita perché le schede si possono raggruppare nelle tab island onde evitare situazioni infelici come questa ma non finisce qui con Opera ho appena scoperto una funzione assurda sono sincera ragazzi l'ho scoperta soltanto oggi peccato perché mi sarei risparmiata un bel po' di fatica e infatti da questo momento in poi penso che sarò una persona nuova perché ho scoperto pinboards una lavagna virtuale per organizzare gli articoli, le immagini, i video, gli appunti direttamente mentre si naviga perfetta per ricostruire i drama più incasinati ma anche per fare tante altre cose non so fatemi sapere come pensate di poter utilizzare questa geniale innovazione se provate Opera ragazzi vi giuro ve lo dico per esperienza non tornerete più indietro cioè ve lo sponsorizzo sincero quando proverete a cambiare browser Opera vi mancherà cumilaria da qui il nome capito? scaricate Opera e operatevi no non lo posso dire questa volta vabbè scaricate Opera e insomma usatelo ma a questo punto cominciamo bentornati nella Kanye West saga capitolo 7 il numero preferito di Kanye West I am a god prima di parlare di Kanye dobbiamo parlare di una donna di nome Bianca Sensori Bianca è una donna appassionata di architettura sin da bambina sogna di diventare una scultrice tutto quello che è una creazione manuale per lei è un autentico miracolo dopo aver completato il liceo Bianca fonda un brand di gioielli di nome Nylons Jewel Nylons Jewelry di cui cura personalmente il design in altre parole i gioielli se li disegna da sola Bianca consegue in seguito una laurea magistrale in architettura presso l'università di Melbourne e nel 2020 la sua vita prende la direzione sbagliata intorno al 2020 Bianca Sensori viene assunta come responsabile dell'architettura presso una prestigiosa azienda di moda Yeezy esatto ragazzi il brand del rapper stilista e presunto dio Kanye West attenzione ci tengo a specificarlo non sono io a considerarlo un dio è lui che si considera tale al punto di avere fondato una chiesa in cui tiene la messa ogni domenica comunque proprio nel 2020 inizia guarda caso la crisi tra Kanye West e sua moglie Kim Kardashian della relazione tra Kanye e Kim dobbiamo ricordare una cosa in particolare e la dobbiamo portare sempre nei nostri cuori questa questa consapevolezza Kanye controllava Kim soprattutto controllava il suo abbigliamento Kanye West denigrava i suoi gusti le diceva che lei avesse il peggiore stile possibile e lei poverina ci credeva fino a che addirittura un giorno all'inizio della loro storia non si è fatta convincere dal suo fidanzato Kanye West a buttare nella monnezza tutto il suo intero guardaroba e a farsi portare a casa centinaia di vestiti nuovi scelti proprio da Kanye Kanye al tempo aveva convinto Kim anche a buttare via tutta la sua amata collezione di scarpe e lei lo aveva fatto piangendo ma lo aveva fatto da quel momento in poi Kanye West aveva imposto a Kim un cambio di stile radicale le diceva cosa potesse indossare e cosa invece non si doveva permettere di indossare a volte si svegliava e decideva che dovevano andare di moda per esempio gli occhiali da sole piccolini quindi iniziava a tormentarla affinché indossasse gli occhiali da sole piccolini e così ben presto Kim Kardashian era diventata la bambolina di Kanye West i due si sono poi sposati hanno fatto un botto di figli e dall'in poi l'ossessione di Kanye West per il controllo dell'estetica si è evoluta in qualcosa di nuovo infatti quando Kim e Kanye hanno comprato una nuova casa Kanye ha preteso di arredarla di bianco morbosamente di bianco interamente di bianco non c'era niente che non fosse bianco in quella casa eccetto lui Kanye ama il bianco Kanye ama i bianchi soprattutto al punto da pronunciarsi più volte contro i neri lo so è strano addirittura a una sfilata si presenterà indossando una maglietta con scritto le vite bianche contano uno slogan che fa il verso al Black Lives Matter il movimento esploso in seguito al brutale assassino di George Floyd da parte di un agente della polizia Kim e Kanye nel 2021 si lasciano dopo la rottura con Kim Kanye West affronta un periodo di perdizione cerca Kim in tutte le donne con cui esce esce per un periodo con la sosia di Kim Kardashian e trasforma in Kim Kardashian chiunque gli si avvicini cioè lui è tipo il remida ma invece di trasformare ciò che tocca in oro lo trasforma in Kim Kardashian il che non gli viene neanche troppo difficile visto che Kim Kardashian la consava lui e infatti Kim da quando si lascia con Kanye West diventa un'altra persona si trasforma in un essere colorato e sbrilluccicoso cioè da che si vestiva di un neutro beige ogni singolo giorno della sua vita che improvvisamente diventa una Winx comunque Kanye West in tutte le sue relazioni future si distinguerà sempre puntualmente per la sua mania di imporre il look alla compagna di turno cioè lui non avrà fidanzate lui avrà solo dei manichini ma anche Kim era un suo manichino a un certo punto per esempio inizierà ad uscire con l'attrice Julia Fox e alla fine del loro primo no forse alla fine del secondo sì alla fine del secondo appuntamento vabbè non importa le farà un'enorme sorpresa una sorpresa bizzarra oltre che enorme cioè le farà trovare un'intera stanza piena di abiti nuovi tutti per lei cosa che Julia Fox in un primo momento non conoscendolo troverà romantica cioè un uomo che arriva e ti regala un armadio di vestiti è una cosa che non capita tutti i giorni cioè cosa fai se ti succede non ti preparano a una cosa del genere si dà per scontato che non ti capiterà ecco Julia Fox la prende bene in un primo momento crede che sia romantico spoiler non era romantico era una forma di controllo per Kanye perché se esci con lui devi indossare ciò che dice lui punto tu diventi un suo accessorio e infatti Julia Fox improvvisamente cambia look comincia a vestirsi sempre abbinata a Kanye West si trucca in modo particolarmente eccentrico e dopo qualche giorno lo lascia ah ragazzi Julia Fox ha appena pubblicato questo libro autobiografico in cui tra le altre cose parla anche della sua relazione con Kanye West lo chiama usando lo pseudonimo l'artista e racconta di come Kanye cercasse morbosamente di controllarla Giulia racconta che un giorno Kanye le fece provare un top attillato questo top praticamente non le stava bene e quindi Kanye si è offerto di pagarle un intervento per rifare il seno Kanye sarebbe arrivato ad assumere uno stylist per lei e glielo avrebbe presentato nel bagno di un ristorante così tanto cioè per dire quanto fosse poco importante per lui che Giulia lo conoscesse capito tanto alla fine come si sarebbe vestita Giulia Fox da quel momento in poi sarebbe stato un affare di Kanye tra l'altro la loro relazione ragazzi è iniziata in modo particolare cioè Giulia Fox nel libro dice al nostro primo appuntamento ci siamo abbracciati sentivo le sue mani che scrutavano ogni parte del mio corpo mi ha portata in un parcheggio e ha iniziato a urinare sul muro davanti a me al che dice Giulia Fox io subito mi sono messa davanti a lui e ho iniziato a urlare ai passanti di non fargli le foto gli appuntamenti successivi ragazzi a detta di Giulia Fox sono stati uno peggio dell'altro Kanye West le avrebbe fatto leccare i baffi cioè in base alla sua versione alla versione di Giulia le diceva continuamente di non apprezzare molte cose della sua vita e soprattutto attenzione ragazzi perché questa cosa purtroppo ci servirà Kanye le diceva di non apprezzare le sue amiche motivo per cui litigavano spesso ovvio ragazzi perché la prima strategia di un manipolatore seriale consiste quasi sempre nell'isolare la vittima dei suoi amici perché questi potrebbero metterla in guardia da lui addirittura un giorno Kanye West avrebbe consegnato a Giulia Fox e ai suoi amici un accordo di non divulgazione gli avrebbe fatto delle pressioni affinché lo firmassero tutti questo mi fa pensare che cosa che siccome non riusciva a convincere Giulia Fox ad allontanarsi dai suoi amici ha cercato di fare sì che i suoi amici si allontanassero da lei come mettendogli a disagio e rompendogli il cazzo e poi un giorno Kanye West avrebbe chiesto a Giulia Fox di scrivere su un giornale qualcosa sulla loro relazione ovvero ragazzi l'articolo che abbiamo letto in questo capitolo della saga perché Giulia questo articolo di giornale lo ha scritto ma a quel punto Giulia stando a quanto racconta nel suo libro avrebbe realizzato che l'unico scopo di Kanye West fosse stato sin dall'inizio quello di fare ingelosire la sua ex Kim Kardashian Giulia Fox nel suo libro scrive per l'esattezza queste anguscianti parole mi sentì come una scimmia da spettacolo io ero un burattino e lui un burattinaio quando l'ho realizzato mi sono sentita usata e me ne sono andata sono stata usata come un'arma nel tentativo di ferire la sua ex moglie attenzione ragazzi si è sentita usata come un'arma per ferire Kim Kardashian anche questa cosa ci tornerà comunque Giulia Fox a parte il 30 settembre 2022 Kim e Kanye firmano il divorzio e a questo punto Kim Kardashian si mette con Pete Davidson Kanye ragazzi si dispera perché vuole tornare con Kim minaccia Pete Davidson di morte lo minaccia di picchiarlo a sangue di seppellirlo in un deserto esagerato lo prende in giro sui social ma niente incredibilmente Kim Kardashian non torna con lui così Kanye che cosa fa? ferma la prima modella che trova di nome Vinetria compra una casa di 4000 metri quadrati a Malibu firmata dal famoso architetto Tadau Amdo al modico prezzo di 70 milioni di dollari e va a vivere con Vinetria in questa casa firmata a Malibu si lasciano dopo tipo una settimana al che Kanye West non sa che cosa farsene della casa giustamente e gli viene un'idea geniale decide di trasformarla in un rifugio antiaereo per farlo assume il project manager Tony Saxon però a Tony Saxon in realtà fa fare tante cose non gli fa fare solo il project manager infatti oltre a fargli supervisionare i lavori di ristrutturazione gli fa fare pure il custode della casa cioè in altre parole lo fa vivere nella casa di Malibu il che sarebbe una figata se non fosse che Kanye West a un certo punto ha fatto togliere tutte le finestre dalla casa quindi Tony Saxon a un certo punto si è ritrovato a vivere in questa struttura che come vedete è cabrio cioè è totalmente a cielo aperto ma non solo Tony Saxon a detta sua dormiva per terra e per coprirsi usava la propria giacca questo che vedete è il letto in cui dormiva Tony Saxon il giorno dopo quando si svegliava lo aspettava una bella giornata lavorativa di 16 ore ma il punto non è questo il punto qual è ragazzi? il punto è che un giorno Kanye West avrebbe ordinato ai dipendenti che eseguivano i lavori per trasformare la casa in un rifugio antiaereo di rimuovere il quadro elettrico e togliere il wifi e gli avrebbe chiesto ragazzi al posto dell'elettricità mi dovete portare all'interno dell'edificio dei grandi generatori di corrente perché questo deve diventare proprio un bunker deve essere autosufficiente fuori dal mondo Tony Saxon a questo punto avrebbe detto a Kanye guarda compa per le finestre io posso venirti incontro però che mi fai portare dei generatori di corrente in queste condizioni non mi sembra il caso c'è il rischio che scoppia un incendio e dice di avergli proprio detto ma per sapere Kanye stai cercando di uccidermi cioè stai cercando di uccidere tutti quelli che lavorano qui al che ragazzi dice Tony Saxon Kanye mi ha risposto che se non avessi fatto quello che mi stava chiedendo di fare sarei diventato un suo nemico Tony Saxon lo ha denunciato ma non prima di avere fatto ciò che Kanye gli ha chiesto perché in fondo essere l'eroe che ha tolto il wifi a Kanye West è qualcosa che non tutti possono raccontare nella vita vale la pena rischiarla per questo ah dimenticavo un particolare ragazzi Kanye voleva trasformare la villa in un rifugio antiaereo perché? per nascondersi dai Kardashian e dai Clinton questa è la spiegazione che dava lui ai suoi a Tony Saxon e ai suoi dipendenti ricordiamo che Kanye West ha il disturbo bipolare e tra i sintomi che lui manifesta c'è il delirio nello specifico il delirio persecutorio Kanye West in parole povere pensa che tutti lo vogliano rinchiudere il che non è necessariamente falso ma lui pensa che non ci sia un motivo per farlo cioè lui non accetta di essere una persona mentalmente instabile lui è convinto che ci siano dei poteri forti che cercano di farlo passare per una persona mentalmente instabile e chi sarebbero i poteri forti che lo vogliono rinchiudere si tratta di tre entità la prima è la ex suocera Kris Jenner la seconda è l'ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America Hillary Clinton e infine Hollywood queste tre entità secondo lui lo vogliono mettere fuori gioco chiudendolo appunto in una clinica psichiatrica costringendolo ad assumere farmaci che lo stordiscano questo perché ragazzi Kanye West avrebbe scoperto la verità la verità su tante cose e quali verità avrebbe scoperto Kanye West? allora verità scomoda numero uno Kris Jenner Kris Jenner secondo Kanye sarebbe stata colei che ha venduto il famoso pornozzo di sua figlia Kim Kardashian e lo avrebbe fatto per fare diventare famosa la propria famiglia infatti ricordiamo che Kim Kardashian è diventata famosa solo e soltanto perché un giorno improvvisamente un suo video in cui faceva fichi fichi con un rapper è finito al cinema e non si è mai saputo chi lo abbia divulgato da lì in poi però la sua mamma Kris Jenner ha cavalcato l'onda mediatica intorno a sua figlia Kim Kardashian creando un reality show basato sulle avventure della propria famiglia ed è così che la famiglia Kardashian Jenner è diventata famosa verità scomoda numero due la verità su Hollywood a Hollywood ci sarebbe secondo Kanye West un'elite che controlla la narrazione della storia verità scomoda numero tre la verità su Hillary Clinton si bombava Pete Davidson alla luce di queste verità scomode da lui scoperte secondo lui si rende necessario per la sua sopravvivenza avere un rifugio antiaereo che ci sta c'è Hillary Clinton ragazzi è dello scorpione quindi c'è è questione di tempo prima che vada a prenderlo e gliela faccia pagare in ogni caso a un certo punto Kanye West ha smesso di interessarsi a questo progetto del bunker e il lavoro è rimasto incompleto ha accantonato tutto infatti oggi la casa di Malibu è ridotta in questo stato come vedete ci sono le ringhiere arrugginite i muri e i pavimenti sono in stato pietoso e c'è letteralmente il mare che gli entra dentro casa o forse no è l'oceano vabbè uguale insomma uguale a momenti c'entrano pure gli squali comunque essendo che Kanye West smette di interessarsi alla casa di Malibu non paga più i dipendenti come per esempio Tony Saxon che nel frattempo continua a vivere dentro questa casa e Tony Saxon ne dice mi erano stati promessi 10.000 dollari per i costi di ristrutturazione più altri 20.000 dollari a settimana ma in realtà lo sapete quanto mi ha pagato Kanye West mi ha pagato 20.000 dollari per un mese di lavoro quindi in sostanza dice Tony Saxon io ci ho rimesso perché comunque ho speso tanti soldi per la ristrutturazione in conclusione Tony Saxon dice che Kanye ve lo cito testualmente convince le persone a fare tutto questo lavoro e a mollare tutto per lui e poi cambia idea o se ne dimentica lavorare per Ye è stato folle ma infatti secondo me non esiste una somma di denaro sufficiente per accettare un lavoro da parte di Kanye West cioè se mi dicessero scegli tra il lavorare per Kanye West per 10 milioni di dollari e fare la netturbina io risponderei perché non mi facciate raccogliere i rifiuti di Kanye West ma in tutto ciò qualcuno ci pensa al fosso che si è scansata a vinetri alla modella un giorno Kanye conosce una donna che lavora nella sua azienda alla Yeezy una donna di nome Bianca Sensori Bianca Bianca il suo nome per Kanye suona così bene la sposa in segreto si sposano con una cerimonia privata il 20 dicembre 2022 quindi matematicamente ragazzi meno di un mese dopo il divorzio da Kim Kardashian quantomeno Kanye ha l'addecenza di non presentare il certificato per rendere legale il matrimonio quindi il loro è un matrimonio diciamo simbolico i due vengono avvistati per la prima volta il 9 gennaio 2023 mentre mangiano insieme presso un hotel di Beverly Hills Bianca e Kanye se la spassano in questo periodo soggiornano molto spesso presso vari resore lossuosi come per esempio il Nobu Ryokan di Malibu dove le stanze costano una roba tipo 2000 dollari a notte a Malibu cioè ricordiamo che Kanye West a Malibu c'ha un bunker antiaereo firmato in totale stato di abbandono però giustamente non è che ci può andare con Bianca visto che non ci sono le finestre tra l'altro qualcuno ha appeso sulla porta del suo garage questo striscione che dice felice Hannukah che sarebbe una festività ebraica chiedo scusa se sto sbagliando la pronuncia questo striscione sarà stato appeso immagino in risposta alle sue dichiarazioni antisemite di cui abbiamo parlato nello scorso capitolo comunque Kanye West con Bianca decide di bruciare le tappe infatti già dopo un paio di mesi di relazione Bianca viene papalazzata mentre cammina a mano nella mano con North West la figlia di Kanye e Kim Kardashian ciao ragazzi sono l'iris del futuro forse potrebbe essere interessante per voi sapere che la festa alla quale si stavano recando Bianca e North West ovvero la festa di compleanno di Kanye si sarebbe svolta in un ristorante sushi un ristorante sushi molto particolare però perché praticamente il sushi viene servito su donne nude sdraiate sui tavoli inermi e North West ha partecipato appunto a questa festa North West ha dieci anni infatti in alcuni video la vediamo che osserva queste donne abbastanza turbata chiedendosi probabilmente come mai abbiano deciso di schiacciare un pisolino proprio in questa situazione io ci avrei messo anche Miranda Sings a fare l'intrattenimento comico e almeno completavamo il quadro guardate io non voglio fare l'estremista e dire che boh è inaccettabile soltanto partecipare a un evento di questo tipo se fosse stato un addio al celibato avrebbe anche avuto il suo perché uno spettacolino del genere però ho capito il fatto che Kanye West gira e rigira trovi sempre il modo per oggettificare le donne per cercare di avere un potere su di loro e sentirsi una divinità al cospetto della donna ecco questa cosa fa sembrare lo spettacolino del sushi bar molto più disturbante perché è l'ennesimo campanello d'allarme pochi giorni dopo Bianca e Kanye vanno in vacanza in Giappone e tutto procede tranquillamente se non che mentre Bianca Sensori e Kanye West sono in vacanza la cerrima nemica numero uno di Kanye West ovvero Taylor Swift è in tour il suo iras tour è un successo ineguagliabile nel mondo della musica pensate che alla fine di giugno dopo un mese scarso di tour Taylor Swift supera il miliardo di dollari di incasso un record fino ad ora detenuto da Elton John nessuno neanche Madonna ha mai incassato così tanto durante un tour quanto Taylor Swift e l'iras tour è appena cominciato Taylor Swift il 22 e il 23 luglio si esibisce a Seattle dove la folla di 70.000 fan che canta e balla causa un cacchio di terremoto cioè non proprio un terremoto però provoca un'attività sismica di un'intensità tale da poter essere paragonata a un piccolo terremoto di magnitudo 2.3 prendiamo questa informazione e mettiamola in tasca la recupereremo più tardi nel programma di Taylor Swift è prevista una sola tappa in Italia per l'esattezza il 13 luglio 2024 nel caso in cui la cosa vi interessi ma considerato l'enorme successo dell'iras tour a questo punto viene annunciata la doppietta facciamo doppietta in Italia ragazzi facciamo il bis e già un anno prima del concerto viene aggiunta una seconda data da quando esce questa notizia ragazzi passano pochissimi giorni tipo 48 ore e Kanye West viene avvistato in Italia coincidenze probabilmente sì ma avevo bisogno di un pretesto per parlare dei successi di Taylor Swift Kanye e Bianca i primi di agosto vengono paparazzati a Firenze e a Roma mentre passeggiano romanticamente per le strade senza scarpe i due continueranno a essere paparazzati a piedi nudi a oltranza la cosa potrebbe essere una scelta commerciale infatti Kanye West se vi ricordate ha rotto con Adidas con cui collaborava per produrre le sue scarpe Yeezy gli ha anche accusati di avergli plagiato le ciabatte insomma c'è un po' di destabilizzazione nel mondo delle scarpe di Kanye West quindi Kanye conoscendolo ragazzi potrebbe avere deciso di non indossare più le scarpe fino a quando non produrrà le sue prossime Yeezy perché Kanye West è abbastanza sveglio da immaginare che dopo mesi che cammina scalzo non appena indosserà un paio di scarpe nuove ne parleranno tutti e questo significherà pubblicità gratis per le scarpe che indossa sarebbe geniale questa mossa di marketing se solo Kanye non trascinasse anche Bianca Sensori in questa follia soprattutto se non la trascinasse a piedi nudi poverina che è una cosa antigenica ma soprattutto pericolosa cioè per terra ci possono essere pezzi di vetro rotti spazzatura cacchi di colombe poi ragazzi capisco che magari loro venendo da Los Angeles non lo sappiano ma qualcuno forse dovrebbe avvisarli che qui in Italia per cultura abbiamo un po' di immunizza in strada tra l'altro nel periodo in cui Bianca e Cani arrivano in Italia è pieno agosto e ad agosto secondo me l'asfalto scotta cioè io non ho mai provato ma cioè secondo me i piedi si possono ustionare e una volta che ti sei tagliata e ustionata ai piedi e continui a camminare a piedi nudi e metti il piede sopra uno sterco di colomba io non so sinceramente come possa reagire il tuo sistema immunitario nel migliore dei casi ti becchi un fungo ma proprio uno di quelli allucinogen comunque Bianca Sensori sopporta benissimo l'asfalto rovente ma una certa il caldo non lo regge più e quindi si spoglia prende e se ne va in giro con un triangolino che le copre proprio lo stretto necessario per non fare affacciare il papa dal vaticano dovete notare una cosa però qui Bianca è da sola questo perché Kanye West si trova in una fabbrica di tessuti e cosa fa? i collant per Bianca in che senso? lo scopriremo nei giorni successivi purtroppo quando Bianca Sensori inizierà ad andare in giro vestita solamente di collant tutto inizia così Kanye West e Bianca Sensori passeggiano per le strade di Firenze mangiando un gelato entrambi non indossano le scarpe e mentre Kanye è vestito in modo totalmente anonimo tutto di nero Bianca è vestita di bianco e nello specifico indossa questa maglia fatta di collant trasparente e sotto una gonna lunga a vita bassa ma il pezzo forte dell'outfit è la cuffia fatta di collant sparatemi cioè soprattutto perché ho pensato di indossarla anch'io cioè per capire un po' cosa provi Bianca a questo punto Bianca comunque deve essersi fatta male ai piedi perché da qui in poi tornerà a indossare le scarpe quanto meno lei infatti come vedete qui Bianca indossa un bel paio di scarpe con il tacco a spillo addirittura tutto ok ragazzi sembrerebbe che Bianca abbia ottenuto da Kanye West un minimo di controllo sul proprio abbigliamento se non fosse per il resto dell'outfit oh mio dio questo è il momento in cui Bianca ha iniziato a farmi pena per Kanye West evidentemente le vite bianche contano ma la vita di Bianca non tanto analizziamo la situazione Bianca indossa non è un outfit che so descrivere le mie capacità retoriche non sono così avanzate è sicuro che non può muovere le mani e probabilmente non respira tanto infatti qui vediamo Kanye West che allarga leggermente il collante dalla sua faccia probabilmente per consentirle di prendere un po' di aria non proprio confortevole e neanche sicuro come capo d'abbigliamento ma oh cioè almeno indossa un paraurti molto utile nel caso in cui Bianca dovesse decidere di correre contro un palo sbattercisi la testa contro e mettere fine alle sue sofferenze per 15 minuti Kanye invece indossa dei semplici leggings neri una maglietta nera con scritto polizei che sarebbe tipo polizia in tedesco e le spalline ma la cosa più importante è che qui indossa le sue nuove scarpe Yeezy so che la cosa vi sta disorientando probabilmente pensate che io vi stia mostrando la foto sbagliata perché qui Kanye ha le calze non ha le scarpe ma no ragazzi vi confermo che queste sono le Yeezy socks le nuove scarpe di Kanye West quindi si camminare scalso era una mossa di marketing ma era più avanti di quanto potessimo immaginare nei giorni seguenti vedremo Bianca girarsi per Firenze vestita solamente di collante trasparenti e tacchi rotti cioè questi tacchi sono proprio così ragazzi sono progettati per sembrare rotti di proposito io i ricchi non li capirò mai purtroppo mi sento di aggiungere cioè era sinceramente difficile riuscire a fare in modo che le scarpe fossero la parte più brutta dell'outfit eppure Bianca ce l'ha fatta o forse dovrei dire Kanye visto che è un'ovvietà che sia lui a decidere i suoi outfit esattamente come ha fatto in passato con Kim Kardashian e con Julia Fox è una situazione brutta perché non possiamo neanche fare come con Britney Spears e dire per esempio a Bianca Bianca se sei in pericolo indossa una maglietta gialla non lo possiamo fare perché il problema è esattamente che non puoi indossare la maglietta che vuole in tutte queste foto lo sapete dov'è Bianca da nessuna parte non c'è perché lei secondo me attenzione secondo il mio parere è totalmente annullata da Kanye West lei non sta esprimendo la propria personalità sta esprimendo la personalità di Kanye West che infatti le cammina accanto sempre vestito di nero anonimo come un avatar addirittura a volte si copre anche la faccia perché vuole secondo me che tutti focalizziamo la nostra attenzione sulla sua opera d'arte Bianca o sulla sua opera d'arte Bianca Kanye West veste di nero perché sta già esprimendo il proprio stile usando Bianca quindi si veste in modo neutro esattamente come fa lo stilista che alla fine di una sfilata ricca di abiti eccentrici e stravaganti disegnati da lui esce a ringraziare il pubblico presentandosi in modo sobrio solitamente vestito di nero proprio per mettere in risalto le sue creazioni senza distrarre con la propria immagine la prova che Bianca Scensori si stia annullando per diventare il manichino di Kanye West per me è stata vedere com'era Bianca Scensori prima di sposare Kanye West preparatevi ragazzi perché sto per mostrarvela questa era Bianca Scensori prima di Kanye West esatto si è uguale a Kim Kardashian cioè è più Kim Kardashian di Kim Kardashian d'altronde Kanye West l'ha sposata un mese dopo avere firmato il divorzio da Kim Kardashian e dopo avere frequentato la sosia di Kim Kardashian quindi la fissazione c'era tuttavia già dalla prima volta in cui Kanye e Bianca sono stati avvistati insieme Bianca già aveva i capelli corti e biondi io ho una teoria secondo me siccome Bianca Scensori era nota per somigliare a Kim Kardashian Kanye ha voluto in qualche modo perverso punire Kim Kardashian usando una sua sosia facendole tagliare i capelli costringendola ad andare in giro prima senza scarpe e in seguito con un abbigliamento degradante come in questo caso quando Bianca va in giro non solo vestita di una tuta incollant trasparente ma abbracciando un cuscino preso tra l'altro dal divano dell'hotel di lusso in cui soggiorna con Kanye West non è chiaro se Bianca lo stia usando in un disperato tentativo di coprirsi o se anche questo sia un accessorio consigliatole dal marito ciò che è chiaro è che mentre cammina per le strade conciata così la gente ride di lei quindi se come penso io è Kanye West a indurla a vestirsi così convincendola per esempio con delle strategie dicendole tu hai il peggiore stile possibile puntando quindi a demolirle l'autostima oppure promettendole chissà quale è successo nel mondo dello spettacolo della moda come ha fatto con Julia Fox oppure regalandole roba costosa per farla sentire speciale come ha fatto con tutte le sue ex insomma se Kanye West in qualche modo manipola Bianca Sensori per convincerla a vestirsi in un modo che non la fa sentire a proprio agio in pubblico allora Kanye West sta sottoponendo Bianca Sensori a un'umiliazione che ne sono sicura lo sta divertendo molto proprio per la somiglianza tra Bianca e la sua ex moglie è proprio una cosa da Kanye le sue vendette sono sempre molto contorte e sofisticate come quella volta in cui ha realizzato un videoclip musicale in cui rapiva e uccideva lentamente Pete Davidson ovviamente non voglio dire che portare i capelli corti sia una cosa degradante attenzione voglio dire che potrebbe averla convinta Kanye West a tagliare i capelli e il taglio forzato dei capelli storicamente è il primo modo per umiliare e asservire un'altra persona è dimostrare di avere potere su di lei io controllo il tuo corpo il tuo corpo è mio e decido io cosa tu devi fartene si è capito secondo te cosa voglio dire che vuoi dire? cioè che Kanye West non sopporta il fatto di aver perso il controllo su Kim Kardashian e quindi cerca dei modi alternativi per esercitare il controllo su di lei e punirla o per illudersi di avere un qualche tipo di controllo su di lei tipo appunto prendere una sosia secondo te quindi lui sta facendo di Bianca tipo una bambola che somiglia gioca con la bambola che somiglia a Kim e ci fa tipo gli spreggi ci taglia i capelli la veste come vuole esatto ha senso secondo te secondo me poi per carità ragazzi potrei sbagliarmi cioè magari Bianca si è voluta tagliare i capelli dopo essersi messa con Kanye West proprio perché le scocciava troppo l'idea di ricordargli la sua ex e magari lei essendo una creativa avendo sempre sognato di diventare un'artista con Kanye West si sente libera più che mai di esprimere in libertà il proprio lato folle ben sapendo di essere supportata dal marito quindi è assolutamente possibile che Bianca Sensori sia a suo agio in questi abiti e che addirittura li scelga lei è possibile ma secondo me è improbabile cioè per me non è una coincidenza la somiglianza tra alcuni outfit di Bianca Sensori come questo qui e gli outfit che Kanye West imponeva a Kim Kardashian come questo qui guardate quanto sono simili non indovinerete mai chi sia Kim Kardashian e chi sia Bianca Sensori e non è neanche una coincidenza secondo me che gli outfit di Bianca Sensori siano estremamente poveri non sono firmati sono realizzati un po' alla carlona e come mai secondo voi perché a Bianca Sensori piace vestirsi low cost secondo me la spiegazione è un'altra Kanye West ce l'ha sempre avuto questo vizio di controllare il guardaroba delle sue compagne ma questa tendenza ci colpiva generalmente meno prima di Bianca Sensori ciò ragazzi è dovuto al fatto che fino a poco tempo fa Kanye West godeva del favore di molti prestigiosi brand di alta moda come Balenciaga e Hermes chi ha visto gli episodi precedenti della Kanye West saga sa che Kanye West non appena usciva con una donna le regalava una borsa Birkin cioè una Hermes Birkin per Kim Kardashian Kanye West selezionava abiti si stravaganti ma non certo trasandati abiti di Kim Kardashian erano lusso costosi firmati da brand importanti e questi abiti Kim Kardashian li presentava solitamente durante eventi di alta moda in ogni caso non a Firenze in mezzo alla strada come una paesana qualunque quindi Kim Kardashian attirava l'attenzione per i suoi look estremi ma non emanava tutto questo trash che emanano oggi Kanye e Bianca e perché questo dovrebbe dimostrare secondo me che sia Kanye West a decidere gli abiti di Bianca perché ragazzi Kanye West è finito nella blacklist di molte aziende di moda dopo aver detto che ama i nazisti inoltre come già alcuni di voi sapranno non viene più invitato agli eventi perché ogni volta che veniva invitato creava scompiglio ai VMA del 2009 è salito sul palco ha tolto il microfono a Taylor Swift durante la sua premiazione e ha detto che il premio non se lo meritava lei ma Beyoncé ai VMA del 2016 ha annunciato che si sarebbe candidato come presidente degli Stati Uniti prima dei Grammy Awards ha postato un video in cui faceva la pipì su un Grammy alla settimana della moda di Parigi si è presentato con la maglietta le vite bianche contano e poi si è messo a bullizzare una giornalista lì presente a un certo punto Kanye non è stato più il benvenuto manco alla sagra del carciofo tutto questo per dire che cosa ragazzi che oggi Kanye non ha più il favore dei brand e quindi per creare look estremi si deve arrangiare con quello che ha e a quanto pare lui ha dei collant e questo secondo me dovrebbe dimostrare che sia proprio lui a scegliere i vestiti per Bianca che secondo me sceglierebbe qualcosa di un tantino più sofisticato ma anche questo diciamo è un mio parere una mia supposizione una speculazione tra l'altro Bianca non ha una Hermes Birkin ve ne sarete accorti tutti che c'è questo questa stranezza in questa relazione c'è questa lacuna Kanye West non ha regalato la Hermes Birkin a Bianca come mai secondo voi ebbene Hermes le sue borse non le vende a chiunque le vende solo a una cerchia di persone rigidamente selezionate e ne ha parlato Vega in questo video ora anche Hermes ultimamente si sarà schifiata della condotta di Kanye West e non gli vende più le borse per questo e quindi niente Birkin per Bianca a lei non resta che andare in giro con il telefono ficcato dentro il pantalone perché per Kanye West la regola è o la borsa Birkin o niente tra l'altro Bianca il telefono lo posiziona proprio all'altezza del ventre secondo me è una posizione strategica è lì per assicurarsi di non perpetuare la specie perché non ne vale la pena mi voglio soffermare sugli ultimi due outfit di Kanye e Bianca in particolare su questo dettaglio prezioso del look di Bianca come vedete in testa indossa un paio di collant color carne legati dietro la testa come una bandana che è esattamente quello che ho replicato io a questo giro se Kanye è veramente dio mi viene solo da bestemmiare per il resto ragazzi Kanye West si ostina ad andare in giro con vestiti molto pesanti nonostante sia agosto e a Firenze si sfiorino i 41 gradi gli si è rotto il termostato un controllino alla pressione per sicurezza al posto suo lo farei ma esattamente a cosa si deve questa visita di Kanye Bianca a Firenze sono in vacanza perché sono qui da noi non che diano fastidio il vero motivo per cui sono a Firenze ragazzi che Kanye West starebbe registrando il suo undicesimo album il che è una notizia grossa per i suoi fan visto che negli ultimi anni Kanye West ha fatto qualunque cosa letteralmente qualunque cosa dal rifugio antiaereo alla fondazione di una scuola tranne che la musica cioè ha fatto tutto tranne fare musica Kanye non produce niente di nuovo musicalmente parlando dai tempi di Donda anzi in realtà dopo Donda aveva pubblicato un altro album Donda 2 però capite che a una certa è diventato ridondante finalmente tuttavia sembra che sia in arrivo nuova musica qualcuno dice che stia registrando in un albergo fiorentino a me personalmente una fonte mi ha detto che Kanye West in Italia abbia registrato l'album nella villa di Sting non so quanto possa essere attendibile sta di fatto che Kanye West sembra trovarsi in Italia proprio per sfornare nuova musica ma perché in Italia cioè poteva veramente registrare altro perché sì Firenze Kanye perché Kanye in Italia ha un appuntamento infatti a Roma c'è il concerto di suo compare Travis Scott il marito di Kylie Jenner sorella di Kim Kardashian e quindi praticamente l'ex cognato di Kanye West Kanye West si reca al concerto di suo compare Travis Scott senza scarpe a piedi nudi anche in questa occasione molto coraggioso da parte sua visto che già normalmente ai concerti capita che ci siano bottiglie rotte per terra figuriamoci a un concerto di Travis Scott dove la parola d'ordine è pericolo di vita nel quarto capitolo della Kanye West saga abbiamo parlato del concerto di Astroworld per esempio durante il quale hanno perso la vita molte persone nel 2015 a un altro concerto di Travis Scott è rimasta ferita una ragazzina di 15 anni nel 2017 a un altro concerto di Travis Scott un fan è rimasto paralizzato ed è sempre stato Travis Scott in tutto ciò a incoraggiare dei comportamenti pericolosi durante i suoi concerti e infatti ragazzi anche durante il concerto a Roma di quest'anno praticamente a un certo punto vari cittadini di Roma dalle loro case hanno chiamato il 112 per segnalare di avere avvertito il terremoto addirittura Caterina Balivo la conduttrice di Vieni da me ha proprio scritto su Twitter qualcuno ha sentito il terremoto a Roma e in effetti ragazzi questa è la sismografia non si rileva un vero e proprio terremoto che si possa considerare tale però insomma ci sono stati dei movimenti anomali il terremotino si è scatenato in un momento preciso cioè nel momento in cui Travis Scott ha fatto salire sul palco a sorpresa il suo compare Kanye West Kanye West ha scatenato un terremoto di magnitudo 3 superando la magnitudo di Taylor Swift che era 2.3 io penso che Kanye West passando tra il pubblico abbia messo di nascosto delle pietre nelle tasche dei fan comunque proprio mentre Kanye West sale sul palco qualcuno tra il pubblico ha la brillante idea di spruzzare uno spray al peperoncino così a caso tipo deodorante che c'è tragedia ragazzi già a un concerto di per sé non si respira tanto bene l'aria è pesante c'è poco ossigeno quel poco di aria che c'è puzza di sudore e di alito quindi capite bene che nel momento in cui questo filosofo spruzza lo spray al peperoncino si scatena il panico gli altri spettatori vicino a lui non riescono più a respirare comincia un fuggifuggi generale e 60 persone rimangono intossicate e vengono per questo soccorse dai medici e dai paramedici più o meno contemporaneamente mentre tutto ciò accade verso il centro del circo massimo davanti quindi ai piedi di Travis Scott centinaia di persone si ammassano contro le transenne fanno cadere uno steward e lo calpestano come uno scarafaggio non si sa quale santo abbia guardato verso il basso in quel momento e per fortuna se l'è cavata solamente con una contusione sempre durante la stessa serata sempre durante lo stesso concerto succede un'altra cosa un ragazzino di 14 anni tenta di imbucarsi al concerto arrampicandosi clandestinamente sulla terrazza del palazzino il ragazzino si voleva imbucare e in effetti ci riesce nel senso che cade in una buca quindi letteralmente si imbuca cade dall'altezza di 4 metri dentro una buca e viene recuperato dai vigili del fuoco e portato all'ospedale dei bambini col codice rosso però per fortuna non è grave diciamo che a sto giro non è morto nessuno solo perché Kanye West è una persona che prega molto dopo il concerto di Travis Scott Kanye e Bianca decidono di cambiare aria anche perché quella di Roma è inquinata dal peperoncino e si recano in un luogo più rilassante si recano nella serenissima i due piccioncini raggiungono Venezia e arrivano ovviamente in barca un viaggio romantico forse troppo romantico tanto che Kanye arriva a Venezia con il culo di fuori mentre Bianca è in ginocchio con la testa posizionata tra le sue gambe non sappiamo esattamente cosa stessero facendo ma con un po' di fantasia ci possiamo anche arrivare il tutto lo fanno alla luce del sole sulla barca in mezzo a centinaia di turisti considerate che questo video l'ha girato proprio un turista è davanti al conducente della barca che parla al telefono non so io spero che stia parlando coi carabinieri poco dopo Kanye e Bianca scendono dalla barca lei si ricompone e niente ragazzi se ne vanno come se niente fosse successo questo video diventa virale e a questo punto la Venezia un turismo motoscafi ovvero l'azienda proprietaria della barca in cui Kanye e Bianca si sono dati da fare bandisce a vita Kanye West e Bianca sensori dichiarando la seguente cosa il signor West e sua moglie non saranno più i benvenuti a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia la Venezia un turismo motoscafi specifica che per fortuna il loro conducente non si era accorto di nulla come in realtà si nota anche nel video infatti la sua visuale era ostacolata da questo affare per l'esattezza la Venezia un turismo motoscafi dice a bordo l'autista doveva stare attento al traffico e non vedeva queste oscenità se ciò fosse avvenuto sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità a questo punto gli amici di Bianca sensori iniziano a preoccuparsi per lei e i suoi amici ragazzi si rilasciano delle dichiarazioni allarmanti cioè loro dicono siamo preoccupati per Bianca perché lei è sempre stata una donna vivace indipendente ma da quando si è messa con Kanye c'è qualcosa che non ci torna punto primo improvvisamente si è allontanata da noi si è completamente isolata e non abbiamo modo di contattarla a causa delle barriere che Kanye le ha creato intorno non so in che senso le avrebbe creato delle barriere intorno e punto secondo dicono gli amici di Bianca Bianca non ci sembra in sé non è più lei non è la la Bianca che conosciamo noi per l'esattezza ragazzi dicono vi riporto le loro parole siamo estremamente preoccupati lei non è quella che vedete nelle foto è una donna incredibilmente schietta e vivace non è il tipo da tenere sempre la bocca chiusa in questo momento non ha nessuno che possa supportarla ed è spaventoso Kanye sta cercando di trasformare Bianca in una versione radicalizzata di Kim quasi come una Kim 2.0 quindi ragazzi Kanye West avrebbe fatto con Bianca la stessa cosa che ha provato a fare con Julia Fox isolarla dai suoi amici solo che mentre con Julia Fox non ha avuto successo con Bianca sembra purtroppo esserci riuscito è così come ha cercato di fare con Julia Fox adesso secondo me Kanye sta usando Bianca come arma contro la sua ex moglie questa volta non per farla ingelosire ma per punirla indirettamente per sentire di avere ancora il potere su Kim in un modo perverso e contorto ovvero controllando e umiliando pubblicamente una donna che le somiglia molto ma di questo abbiamo già parlato Bianca ragazzi quando è con Kanye secondo me non ha un viso sereno cioè non è difficile immaginare che come faceva con tutte le sue ex Kanye la tormenti su quanto lei non vada bene le faccia pressioni per seguire le sue folli regole però di tutto ciò al momento non abbiamo le prove sono solo supposizioni supposizioni che comunque avevamo fatto anche su Julia Fox e avevamo ragione chissà che un giorno anche Bianca Sensori non scriva un libro per raccontare la sua agghiacciante esperienza con l'artista francamente lo spero tanto comunque dopo essersi fatti schifiare pure da Venezia Kanye e Bianca si recano nel paese preferito di Kanye West la Germania questa è sottile arriva Kanye arriva a Berlino vestito così coperto dalla testa ai piedi ha pure una maglietta avvolta intorno alla faccia e ha persino le mani coperte è incredibile come quest'uomo possa andare in giro avvolto coperto e comunque se passa tu lo riconosci cioè guarda c'è Kanye West Bianca invece indossa indovinate che cosa ragazzi decollante a vita molto alta fine Bianca e Kanye West trovandosi a Berlino vanno a visitare il famoso kebab di Mustafa una leggendaria kebaberia la migliore d'Europa dicono tanto che la fila per prendere sto kebab è lunghissima tipo una fila a Gardaland quindi Kanye arriva e che cosa fa ovviamente chiede di saltare la fila perché cioè è Kanye West non può certo fare la fila con i comuni mortali magari si mette pure dietro i poveri capite cioè non è contemplabile il proprietario nega categoricamente la richiesta al che Kanye West avrebbe usato con lui a detta del proprietario dei toni poco ragionevoli non sappiamo i dettagli ragazzi sta di fatto che alla fine Kanye è stato invitato a rispettare la fila come chiunque altro ma a questo punto Kanye avrebbe mandato una delle sue guardie del corpo a negoziare con Mustafa il che penso significhi che gli abbia offerto dei soldi per saltare la fila ma alla fine ecco Kanye e Bianca in fila come dei comuni mortali cosa che sono nonostante Kanye West non voglio accettarlo vi assicuro ragazzi che i tedeschi non solo prendono molto sul serio il concetto di fila ma soprattutto ci tengono a non fare favori ai nazi è una questione personale ora a questo punto Bianca e Kanye vengono paparazzati mentre mangiano un panino kebab seduti sulla panchina e poco dopo Bianca viene fotografata mentre sorseggia un succo di frutta all'anguria ed è proprio a questo punto che inizia a circolare un pettegolezzo inquietante alcune fonti che non so ragazzi quanto possano essere attendibili perché quando la fonte è una fonte io comunque mi fido il giusto comunque alcune fonti dichiarano che Kanye West imponga a Bianca Scensori delle regole bizzarre queste regole sarebbero mai parlare indossa solo ciò che ti dico io non puoi mangiare niente eccetto kebab gelato e succo d'anguria e fai esercizio fisico cosa che Kanye al contrario si rifiuterebbe di fare a sua volta inoltre ragazzi Bianca in base a queste fonti non avrebbe più una propria mente pensante ma sarebbe uno zombie comandato da Kanye West cioè lei non farebbe altro che obbedire agli ordini di Kanye oltretutto Bianca sarebbe fermamente convinta di avere uno status reale cioè lei forse pensa di essere una principessa Bianca Neve ora secondo me ragazzi questa cosa delle regole è una mezza bufala quantomeno la storia del cibo cioè la storia del cibo è palesemente una narrazione costruita sulle foto di Bianca Sensori insieme a Kanye West infatti Bianca negli ultimi giorni è stata fotografata prima a mangiare un gelato poi a mangiare il kebab a berlino e infine a bere un succo di frutta all'anguria guarda caso oltre ciò è una bufa secondo me il fatto che Kanye West imponga a Bianca Sensori di non parlare infatti ho trovato questo video girato credo da un fan con cui Bianca si ferma a parlare ed è molto gentile e sorridente con lui vero che è da sola c'è il suo padrone Kanye West non è presente nella situazione quindi è possibile che Bianca non sapendo di essere filmata abbia trasgredito alla regola di non parlare chi può dirlo non so che pensare ragazzi cioè secondo me è possibile che Kanye imponga proprio un codice di regole a Bianca cioè possibile è possibile ma secondo voi Kanye sta imponendo un codice di regole a Bianca l'unica cosa che mi sento di dire ragazzi con certezza è che questo fatto che Kanye West controlli un'altra persona e non sia un'altra persona a controllare lui secondo me è sbagliato comunque Bianca e Kanye dopo il rehab dopo il rehab dopo il kebab dopo il kebab Bianca e Kanye tornano in Italia tornano a Firenze vestiti sempre uguali c'è lei con la tuta di Collant e lui tutto coperto di nero possiamo ormai considerarla un uniforme e insomma Kanye West prende e blocca una strada di Firenze per fare delle foto a Bianca tutto ciò tra le risate generali dei passanti che per fortuna insomma l'hanno presa a ridere finito il servizio fotografico Kanye e Bianca entrano in una chiesa di Firenze per visitare questa chiesa e in chiesa si sta svolgendo un matrimonio quindi educatamente Kanye West va a presentarsi agli sposi una volta che ha finito di farsi schifiare anche da Firenze Kanye West si reca in Reggio Emilia dove visita la RFC Arena di Campovolo per intenderci ragazzi è il luogo in cui recentemente si è esibito Harry Styles Kanye si guarda intorno e dice ai gestori dell'arena voglio fare un concerto qui e loro bene ok e Kanye voglio farlo la settimana prossima e loro cosa Kanye West porta improvvisamente tutto il suo team a Reggio Emilia fa costruire fa costruire una scenografia una scenografia enorme a Campovolo e decide che farà il concerto venerdì 20 ottobre quindi meno di una settimana dopo avere preso questa drammatica decisione di esibirsi in Italia un concerto last minute farà e senza che ci sia un motivo cioè senza che ci sia in atto un tour è come se avesse fretta capito? è strano non lo so è come se volesse battere un record la notizia di Kanye West che farà un concerto in Italia solleva molte polemiche e da parte di chi? da parte di quelle categorie di persone che negli ultimi mesi sono state offese da Kanye West quindi tipo donne persone nere ebrei quelli che indossano i cappelli neri addirittura i treni scioperano no scherzo ragazzi lo sciopero dei treni c'era veramente ma non per Kanye West insomma mancano sono pochi giorni al concerto quando improvvisamente il concerto viene rimandato e viene rimandato al 27 ottobre il 27 ottobre è il giorno in cui guarda caso uscirà il nuovo album di Taylor Swift se non lo conoscessimo diremmo che Kanye West voglia eclistare Taylor Swift e fare in modo che quel giorno si parli più di lui che di lei i giorni passano il 27 ottobre si avvicina pericolosamente ma i biglietti ancora non vengono messi in vendita e questo è strano a meno di una settimana dal concerto ragazzi ancora i biglietti non sono stati messi online per essere venduti c'è nessuno ha comprato un biglietto il che mette una certa ansietta in quanto è prevista la partecipazione di almeno 100.000 fan al concerto che sono troppi cioè considerate che al concerto di Harry Styles c'erano 80.000 fan e per assicurarsi un posto in prima fila gente come Fernanda si è accampata una settimana prima ma una settimana prima del concerto di Kanye West qua ancora manco i biglietti in vendita ci sono il piano malefico di Kanye West è molto chiaro a questo punto Kanye vuole vendere i biglietti direttamente al botteghino il giorno stesso del concerto questo per creare il più grande assembramento nella storia della vendita dei biglietti la gente si scannerà per gli ultimi biglietti rimasti ciò attirerà un sacco di giornalisti farà fare un sacco di foto e Kanye West ancora una volta sarà il protagonista pensate ragazzi che a questo punto circolano alcune voci in base alle quali Kanye West presenterà il suo nuovo album direttamente dal palco di Campovolo dall'Italia si vocifera che canterà canzoni inedite e immaginate questo misero gossip quante persone attirerà al concerto potrebbe attirare persone anche da altri paesi e non solo dall'Italia il problema è che non sapendo con esattezza quante persone si presenteranno davanti a Campovolo quel giorno la prefettura di Reggio Emilia non può organizzare non può organizzare niente cioè non può organizzare un piano del traffico urbano non può assoldare il giusto numero di agenti di sicurezza non può organizzare gli operatori sanitari per le emergenze cioè è un piano estremamente pericoloso perché si può fare una stima mettiamo che arriveranno 100.000 persone e ci organizziamo per l'arrivo di 100.000 persone ma se ne arrivassero 200.000 e non fossimo preparati non ci fosse abbastanza sicurezza non ci fossero abbastanza medici a maggior ragione con questa storia che Kanye West potrebbe presentare il suo nuovo album cioè non si può agire per pronostici bisogna staccare un numero massimo di biglietti e bisogna fare sì che chi non ha il biglietto eviti di scomodarsi da casa e di andare ad affollare inutilmente le strade ma Kanye West i biglietti ancora non li mette in vendita e così a sole 120 ore dal concerto la prefettura dice a Kanye West il tuo concerto è annullato torna a fare la messa che qui puoi solo fare casini nel giro di poche ore il palco di Kanye West viene smontato e portato via così Kanye West se ne va dall'Europa disprezzato da Venezia perché si è fatto fare un succhiotto sulla barca davanti ai turisti disprezzato da Reggio Emilia perché non ha avuto il rispetto degli organizzatori e delle norme di sicurezza disprezzato da Firenze perché ha bloccato le strade per fare due foto a Bianca e ha interrotto un matrimonio disprezzato da Berlino perché ha cercato di saltare la fila niente ragazzi il dio Kanye ha perso la sua divinità come potrebbe andargli peggio di così Pete Davidson Pete Davidson fa il suo grande ritorno alla trasmissione comica Saturday Night Live e lo fa con uno sketch geniale a un certo punto durante il Saturday Night Live viene trasmesso questo video è la parodia della canzone I'm Just Ken una delle canzoni della colonna sonora del film Barbie la parodia si chiama I'm Just Pete contesto per chiunque non abbia visto Barbie nel film Ken canta questa canzone lamentandosi del fatto che lui sia solo Ken capito nessuno lo considera importante quanto Barbie infatti a differenza di Barbie che esiste nella versione dottoressa nella versione modella studentessa avvocata presidente degli Stati Uniti lui è solo Ken nient'altro che un accessorio di Barbie in questa parodia Pete si prende in giro ripercorrendo tutte le polemiche che nell'arco della sua carriera ha sollevato tutti i motivi per cui si è parlato di Pete Davidson tra questi motivi ovviamente c'è che ve lo dico a fare il suo dissing con Kanye West questa canzone ragazzi mi è piaciuta così tanto che ne dobbiamo assolutamente parlare perché ne ho voglia lo sketch comincia proprio con Pete Davidson che torna finalmente negli studi del Saturday Night Live sta portando una torta ai suoi colleghi ma purtroppo li becca a ridere di lui praticamente lo stanno sparlando perché cioè loro dicono cose tipo ah da quando Pete se ne è andato da qui non ha fatto niente non ha fatto alcun successo non sa fare niente bla 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 così Pete comincia a cantare e canta con questo mood demoralizzato a nessuno interessa il lavoro che faccio ho fatto uno spettacolo anche con Giupesci e nessuno lo ha guardato a parte mia madre in effetti Pete Davidson ha recitato nella serie tv comica Bapkis la cui trama sarebbe una versione romanzata della sua stessa vita ora in questa serie il coprotagonista è niente meno che il famoso attore Joe Pesci un pesce grosso nel cinema le probabilità che fosse un flop erano veramente basse eppure è stato un flop continua a cantare Pete quando sono fatto faccio cose come chiamare Colin Jost e dirgli amico dovremmo comprarci una barca e in effetti qualche tempo fa Pete Davidson mentre era molto fatto ha acquistato all'asta un traghetto dismesso al modico prezzo di 280 mila dollari ciò insieme al suo collega e amico Colin Jost ancora oggi Pete non sa che cosa farsene del traghetto meno male che lui e Kanye West non sono amici altrimenti sai che guai proseguiamo con la canzone qui Pete canta mi dicono che ho gli occhi a buco di culo Pete si riferisce ragazzi in questa parte della canzone a quella volta in cui il blog Barstool Sports su Twitter condivise simpaticamente una foto di Pete insieme alla sua allora fidanzata Ariana Grande scrivendo in questo tweet Pete Davidson non ha gli occhi a buco di culo il Twitter ha diventato virale e Pete Davidson da allora ha iniziato a essere preso in giro per i suoi occhi a palla addirittura Ariana Grande ha una certa se incazzata e ha scritto un tweet ricordando a Barstool Sports che Pete Davidson ha una malattia autoimmune aggiungendo occhi a buco di culo dice che non sta ancora facendo quello stupido podcast che gli chiedete di fare da tre anni grande Ariana ma andiamo alla parte della canzone che ci interessa di più ovvero quando Pete Davidson canta sono solo Pete le persone online mi chiamano ancora skit per colpa di un tizio di cui legalmente non posso fare il nome e a questo punto compare in sovrimpressione per un nanosecondo la foto di Kanye West seguita da Pete Davidson che fa questo gesto se avete visto i capitoli precedenti ragazzi sapete già di cosa Pete stia parlando ebbene nel momento in cui Pete Davidson aveva iniziato a frequentare Kim Kardashian Kanye West subito aveva iniziato a bullizzarlo sui social affibbiandogli questo fastidioso soprannome skit skit dovrebbe essere in teoria un riferimento alla sbocco poi vabbè la canzone continua con Pete che ironizza sul fatto che a volte all'improvviso quando meno te lo aspetti va in rehab cosa assolutamente vera cioè le sue vacanze in rehab sono frequenti e Pete Davidson ne parla con orgoglio perché soffre del disturbo borderline di personalità e sensibilizza il suo pubblico cercando di normalizzare l'andare in riabilitazione ci ha provato anche con Kanye cioè lui in passato gli ha scritto dei messaggi dicendogli compaio ci vado in riabilitazione provaci anche tu te lo dico da amico non c'è niente di male ti sentirai meglio dopo però insomma ragazzi arrivati a questo punto del video avrete già intuito che Kanye non ha mai ascoltato il consiglio di Pete comunque dopodiché Pete Davidson canta puoi sentire quell'energia quell'energia del grosso pen in che senso Ariana Grande dopo la loro rottura Ariana Grande ha comunicato in un tweet che Pete Davidson abbia un pene di 25 cm questo è sembrato molto logico visto che Pete Davidson è famoso per essere sempre il ragazzo con cui si mettono le donne dopo l'ex storico per esempio proprio Ariana Grande si era appena lasciata col fidanzato storico Mac Miller quando si è messa con Pete Davidson la stessa Kim Kardashian aveva appena divorziato da Kanye West quando si è messa con Pete Davidson insomma la dichiarazione di Ariana sembrava avere un senso se non che Pete Davidson ha dovuto smentire la cosa cioè lui ha detto eh Ariana è una furbacchiona molto intelligente perché da ora in poi ogni ragazza che vedrà il mio pene dopo di lei rimarrà delusa in ultima istanza ragazzi Pete Davidson nella sua canzone nella sua parodia di I'm Just Can canta genero tonnellate di pubblicità per tutto tranne che per la mia commedia riferendosi ancora una volta a Bapkis e poi canta sono solo Pete sono un malato di mente mi drogo ebbene sì Pete Davidson in passato ha assunto droga quasi ogni giorno per quattro anni motivo per cui tra l'altro Kanye West nel periodo in cui Pete stava con Kim continuava a denigrarlo sui social nonostante Pete Davidson al tempo fosse già stato in rehab e si fosse lasciato alle spalle da un po' la sua dolorosa storia di dipendenza ma i riferimenti a Kanye West e le frecciatine a Kanye West non finiscono qui ragazzi infatti canta subito dopo Pete Davidson ho cancellato tutti i miei account online perché il dottore dice che internet non mi fa bene anche questo ragazzi è vero Pete Davidson non usa i social su consiglio dei medici l'ultima volta che ha provato ad aprire un account Instagram Kanye West gli ha mandato contro una shitstorm e lo ha rispedito in rehab la parodia si conclude con Pete Davidson in macchina insieme a Barbie che parte e si schianta a caso contro una casa questo preciso scenario si è verificato veramente nella vita di Pete in pratica Pete era in auto con la fidanzata Chase Sue Wonder era nel quartiere di Beverly Hills che guidava tranquillamente l'auto quando all'improvviso l'auto è salita sul marciapiede e si è schiantata contro una casa nessuno si è fatto male e è stato accertato che Pete non fosse sotto l'effetto di sostanze né sotto l'effetto di alcol ma non si è mai capito cosa sia successo cioè è stato proprio assurdo ma noi sappiamo che Kanye West è un dio quindi a questo punto c'è una cosa di cui dobbiamo parlare molti dicono che questo tizio di cui abbiamo parlato oggi questo tizio nelle foto insieme a Bianca Sensori non sia il vero Kanye West di cosa diamine sto parlando una delle teorie del complotto più in voga del momento vuole che Kanye West sia stato sostituito da un clone un clone che i teorici di questa cospirazione chiamano clonie Bianca quindi sarebbe stata in giro per l'Italia non con Kanye ma con clonie Travis avrebbe cantato al suo concerto non con Kanye ma con clonie la teoria di clonie nasce il giorno in cui Kanye West pubblica su Twitter lo screen di un messaggio ricevuto da Harley Pasternak il famoso celebrity trainer che allena star del calibro di Harry Hanna Lady Gaga Kim Kardashian ecco Harley Pasternak in questo messaggio avrebbe scritto a Kanye West ti aiuterò in uno di questi due modi prima opzione tu ed io ci sediamo e parliamo apertamente senza usare parolacce e tutto ciò di cui si discute si baserà sui fatti non su strane storie che qualche tuo amico sciocco ti ha raccontato o che hai letto in un tweet seconda opzione ti faccio ricoverare di nuovo in una struttura dove ti somministreranno una quantità enorme di farmaci e tornerai a vivere nel mondo dei morti viventi lui scrive proprio a Zombieland per sempre un appuntamento con i bambini non sarà più lo stesso condividendo questo screenshot Kanye West scrive visto visto la diagnosi che mi hanno fatto ovvero la famosa diagnosi di disturbo bipolare di cui ragazzi abbiamo parlato nel primo capitolo è falsa e me l'hanno fatta perché mi vogliono drogare vogliono imbottirmi di farmaci che mi rendano una celebrità gestibile obbediente come le altre ora ragazzi dobbiamo tenere presente che lo screen del messaggio è ritagliato non sappiamo quindi cosa avesse scritto Pasternak prima e soprattutto non conosciamo il contesto sta di fatto che questo riferimento a Zombieland scatena i complottisti vogliono rinchiudere Kanye West cioè noi i complottisti i complottisti pensano che ci sia qualcuno che vuole rinchiudere Kanye West e a un certo punto effettivamente succede che Kanye West sparisce dalla circolazione per un po' al punto che le autorità non lo riescono a trovare se non sbaglio lo scorso capitolo si era concluso così vi ricordate che tra l'altro io dicevo ah spero che sia il rehab e che nesca guarito ma poi improvvisamente Kanye West è ricucciato fuori sposato con Bianca dopo settimane forse mesi di sparizione e questo Kanye West che va in giro con Bianca Sensori sarebbe diverso dal vero Kanye West punto primo Kanye West ha sempre avuto le braccia costellate di tatuaggi ma quando Kanye o forse dovremmo dire Clonie sale sul palco per cantare con Travis Scott scopriamo che questi tatuaggi sono misteriosamente scomparsi e le sue braccia sono pulite come quelle di un magistrato questo spiegherebbe per quale assurdo motivo Kanye o Clonie vada in giro con le maniche lunghe nonostante ci siano 40 gradi all'ombra nasconde il fatto che non abbia i tatuaggi ma vi pare che creano in laboratorio un essere umano identico a un altro replicando il suo DNA costruendogli connotati la pelle i peli e poi nel momento di fargli i tatuaggi dicono oh no questo non lo sappiamo proprio fare gli faremo indostare il giubbotto ma che razza di teoria è cioè al massimo potrebbe essere un sosia non un clone creato in laboratorio uguale tale e quale ma anche lì anche se fosse un sosia viene pagato un sosia di Kanye West e non gli fanno fare dei tatuaggi anche finti anche semipermanenti cioè perché dovrebbero essere così approssimativi a Hollywood il regno degli effetti speciali perché sì ragazzi i mandanti sarebbero la famosa elite di Hollywood ma a questo adesso ci arriviamo andiamo per ordine comunque la spiegazione alla assenza dei tatuaggi c'è dico ora io non voglio fare la guastafeste non voglio fare sempre quella che boh magari non crede nelle potenzialità della scienza non crede che sia possibile clonare l'essere umano però ragazzi banalmente Kanye è nero e quindi in assenza di luce i tatuaggi fatti con l'inchiostro nero potrebbero non vedersi ma anche in condizioni di luce buona non essendoci particolare contrasto tra il colore della pelle e il colore dell'inchiostro i tatuaggi potrebbero non essere ben visibili soprattutto quando le foto scattate dai paparazzi sono scattate da una lunga distanza magari noi le vediamo vicine ma magari il paparazzo era a chilometri di distanza e infatti se prendiamo le immagini del concerto basta aumentare un pochettino il contrasto per riconoscere le figure dei tatuaggi sulle braccia di Kanye oppure basta guardare degli scatti fatti in condizioni di luce buona per vedere che Kanye effettivamente dei tatuaggi sulle braccia ce li abbia la spiegazione alle teorie del complotto di solito è più facile di quella che viene fornita dai complottisti ma in questo caso cioè stiamo proprio esagerando proseguiamo con gli indizi che dovrebbero supportare la teoria di clonie su google risulta che Kanye West sia alto esattamente quanto Bianca Scensori infatti lui risulta alto 1 metro e 72 e Bianca risulta alta 1 metro e 72 uguali e in effetti nelle foto sembrano alti uguali il problema è che Bianca indossa i tacchi quando invece sono entrambi scalzi senza scarpe notiamo come Kanye o Clonie sia in effetti molto più alto di lei e alcuni personaggi che hanno incontrato Kanye West dal vivo di recente si sono accorti che ultimamente sia più alto cioè c'è chi si è domandato ma com'è che Kanye che prima era alto un metro e una chewing improvvisamente è diventato un giocatore di basket mistero in ultimo prima di scomparire dalla circolazione Kanye West aveva detto in questa intervista se sparisco per un po' voi sapete il perché in realtà non lo sappiamo perché Kanye West dovrebbe essere stato rinchiuso in una clinica e un Clonie dovrebbe essere stato messo in circolazione al posto suo ebbene ragazzi il motivo sarebbe che Kanye West ancora una volta si sarebbe avvicinato a scoprire una verità disturbante e per di più avrebbe tentato di rivelarla di rivelarla al mondo ma di cosa sto parlando in questa intervista Kanye West dice che a Hollywood vengano spesso assassinati brutalmente i cari delle celebrità per traumatizzarle e poterle controllare meglio e fa degli esempi Kanye West il padre di Michael Jordan James Jordan è stato assassinato mentre era di ritorno dal funerale di un suo amico James Jordan nel tragitto si era sentito stanco e così per sicurezza si era accostato in autostrada per riposare un po' ma proprio mentre dormiva due criminali lo hanno ucciso e gli hanno rubato la macchina macchina che gli era stata regalata dal figlio Michael tra l'altro la stessa sorte sarebbe toccata guarda caso al figlio di Bill Cosby ebbene il figlio di Bill Cosby l'attore regista famoso per essere stato accusato da 70 donne di studio quindi anche lui è un tipo da rimettere urgentemente in riga ebbene a quanto pare ragazzi dicevo suo figlio nel 1987 è stato assassinato all'età di 27 anni e indovinate dove in autostrada il figlio di Bill Cosby si era accostato per cambiare le gomme della sua auto e proprio in quel momento è stato ucciso e rapinato anche lui uno scenario molto simile a quello del padre di Michael Jordan autostrada accostamento in autostrada rapina dopo la se fossi una complottista francamente penserei che i mandanti siano gli stessi cani ragazzi in questa intervista dice anche mia madre è stata sacrificata allo stesso modo per traumatizzarmi la mamma di Kanye West Donda ricordiamolo è morta prematuramente in seguito a complicazioni dovute a degli interventi di chirurgia plastica è sicuro che dopo la morte di Donda Kanye West è uscito completamente dai binari quindi per esserci il trauma c'è che sia stato voluto è causato dai poteri forti mi pare difficile e quindi ragazzi secondo i complottisti Kanye sarebbe attualmente rinchiuso in un manicomio a Zombieland il suo clone sarebbe in giro a spacciarsi per lui e per somigliare ancora di più a Kanye West clonie fa cose bizzarre ma non fa mai dichiarazioni scomode su Hollywood e questo è ciò che conta per l'elite che poi sarebbe l'elite degli illuminati se capito ne abbiamo parlato in questo video su Britney Spears se vi interessa anche lei è al centro di una teoria molto simile ora ragazzi io credo che niente di tutto ciò sia vero ma sono anche sicura che Kanye West sia abbastanza complottista da crederci e infatti in un recente freestyle Kanye ha cantato quindi forse lui letteralmente crede di essere un clone di se stesso Kanye crede di essere cloni oppure magari no cioè magari sapeva qui quando ha fatto questo freestyle che lo stessero clonando in laboratorio magari gli illuminati lo hanno tenuto al corrente di questa cosa magari lo minacciavano di mettere in circolazione il clone io sto dicendo cose senza capire cosa sto dicendo quantomeno la figlia di Kanye North West non sembra avere notato niente di strano in suo padre infatti in una recente puntata della serie tv The Kardashian Kim ha rivelato a sua sorella Courtney qualcosa che ha fatto molto chiacchierare ovvero che la figlia North West è da 10 anni ogni volta che trascorre del tempo a casa di suo padre torna piangendo ma vabbè è normale direte voi chiunque tornerebbe piangendo dopo aver soggiornato da Kanye West no ragazzi il problema è che North piange perché non vuole tornare da sua madre infatti North direbbe a Kim vi riporto ciò che Kim racconta a Courtney papà è il migliore lui ha tutto sotto controllo non ha una tata non ha uno chef non ha la sicurezza vive in un appartamento perché tu non hai un appartamento non posso credere che non abbiamo un appartamento tra l'altro ragazzi a questo punto Courtney le risponde no vabbè ma non mi dire anche i miei figli mi dicono mi dicono le stesse cose c'è quando tornano qui dopo essere stati dal loro padre che ricordiamo ragazzi essere Scott Disick tornano indignati dalla nostra ricchezza e dice Courtney mi dicono casa tua fa schifo la sua casa è più bella perché non è così grande emana un'atmosfera più positiva allora possono sembrare capricci da bambini viziati ma in realtà ragazzi vi dirò cioè io credo che il disappunto di questi bambini non sia strano perché i bambini non è che abbiano particolari responsabilità in casa cioè non è che se non ci sono i domestici allora tocca a loro lavare i piatti pulire il bagno passare la pezza e non è che senza gli chef tocca a loro pensare a che cosa devo cucinare a pranzo quindi l'unica cosa che cambia a questi bambini se il personale c'è o non c'è è la quantità di gente in mezzo alle scatole di conseguenza dal loro ingenuo punto di vista è solo stressante avere i domestici mi sembra normale per quanto riguarda le lamentele sulle dimensioni della casa è normale secondo me che in una casa più piccola un bambino abbia la sensazione di passare più tempo con il genitore potrebbe anche essere soltanto un'illusione perché vuoi o non vuoi ce l'hai sempre in mezzo ai piedi perché se la casa è piccola ogni volta che cambi stanza lo vedi gli passi accanto quindi anche psicologicamente secondo me un bambino ha una sensazione di vicinanza maggiore con il genitore che poi vabbè vorrei vedere quanto piccole sono queste case di Kanye West e Scott Disick cioè non penso proprio che stiano in un monolocale comunque bisogna dire che ultimamente sul Northwest c'è molta attenzione mediatica ho notato questa cosa questo perché North esce spesso con la madre va agli eventi con lei e si presenta sempre vestita in modo originale alla moda talvolta anche in modo eccentrico per la sua età ma la cosa che colpisce più di ogni altra è l'incredibile somiglianza di North con suo padre e non parlo solo di una somiglianza estetica ragazzi ma anche caratteriale c'è Northwest ha solamente 10 anni e già è una provocatrice come suo padre già lei si sente una divinità come suo padre ad esempio sta circolando in modo virale questa clip in cui snobba il lavoro da influencer di sua madre ora proprio in virtù di questo interesse mediatico di questo interesse del pubblico nei confronti di Northwest la bambina recentemente ha rilasciato la sua prima intervista a 10 anni e infatti si tratta di un'intervista assolutamente inutile in questa intervista la bambina dice che la sua canzone preferita sia Through the Wire di suo padre dice che le piace cantare ma ancora di più le piace esibirsi in pubblico le viene chiesto chi sia la sua icona di stile e Northwest risponde io alla domanda North quali parole useresti per descrivere te stessa lei risponde la migliore di sempre e infine alla domanda cosa vuoi fare da grande North risponde voglio fare la giocatrice di basket e la rapper ma prima a 13 anni farò la dog sitter così faccio soldi e mi compro le cose per fare arte perché l'umiltà prima di tutto in più dice North un giorno io voglio possedere sia Yeezy che Skims ovvero rispettivamente i brand di papà e mamma e non contenta North dice voglio anche avviare un business tutto mio allora come dire a me non frega niente di cosa voglia fare da grande Northwest chiedetele se suo padre è diventato più alto ultimamente punto secondo ragazzi io personalmente trovo poco salutare tutta questa attenzione mediatica su una bambina come lo devo dire cioè a parte che in questa stessa intervista North dice mi piace farmi le foto ma non mi piace che me le facciano i paparazzi ecco già è inquietante pensare che a dieci anni una bambina debba affrontare il problema dei paparazzi ma a parte questo io non credo che sia sana questa cosa che Northwest venga esaltata per il suo comportarsi in un certo modo ovvero per il fatto che sia snob altezzosa che si senta un artista che si senta la migliore del mondo non trovo che sia sano per due motivi uno perché adesso il suo atteggiamento altezzoso ci fa simpatia perché è piccola ma quando sarà grande questo stesso atteggiamento che noi stiamo premiando le attirerà una montagna di insulti ammettiamolo due secondo me si rischia di bloccarla in questo personaggio North ancora ha una vita intera per evolversi per cambiare personalità ma se riceve tutta questa gratificazione per il modo in cui è adesso e diventa famosa per questo suo personaggio potrebbe smettere di esplorare il proprio io e potrebbe costringersi ad interpretare questo personaggio per sempre anche quando a un certo punto non sarà più allineato con la sua personalità e il problema è che Northwest a 10 anni potrebbe non essere in grado di separare il personaggio dalla sua vera identità quindi il rischio ragazzi secondo me è che Northwest si faccia influenzare dalla narrazione che viene fatta di lei sui media e che cerchi di costruire se stessa non in un modo coerente con la propria morale con la propria reale personalità ma con le aspettative del pubblico senza che riesca mai a rendersene conto a scindere le due cose perché lei è una Kardashian e la sua vita la vive dentro un reality show quindi è costretta ad essere un personaggio è ovvio che potrebbe rimanere intrappolata nel personaggio che si sta già creando che i giornali stanno creando che il pubblico sta creando ed è brutto c'è nessuno di noi è la stessa persona che era all'età di 10 anni quindi questa è la mia lamentela del giorno Northwest è una bambina talentuosa questo si vede cioè è innegabile emana una forte personalità cioè emana più personalità di tutte le Kardashian genere messe insieme sicuramente è in questo momento un artista in potenza ma secondo me è giusto che lei in questo momento continui a conoscersi senza influenze esterne cioè per l'esattezza senza l'influenza dei social che narrano come il Northwest credo ragazzi che un bambino per quanto possa essere brillante sia comunque un bambino è giusto lasciare ai bambini il tempo di essere bambini anche ai bambini brillanti perché vivere la vita adulta è una sfida stressante che richiede molti anni di preparazione mentale e dovrebbe essere affrontata questa sfida solo quando si è pronti mentalmente emotivamente e fisicamente cosa che a 10 anni mi pare improbabile saltare l'infanzia è come correre una maratona senza essersi mai allenati puoi anche farcela ma dopo ti ritrovi intrappolato su un treno con le gambe paralizzate e anche oggi sono sopravvissuta alla Kanye West saga a questo punto passo la parola a voi secondo voi Kanye è un clonie ma soprattutto Kanye o clonie sta controllando Bianca Sensori commentate con Free Bianca se la vostra risposta è sì detto ciò ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo offrendomi un caffè virtuale tramite il link che vi lascio giù nell'info box e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale vi mando un bacio e a voi la linea vi mando un・・ vi mando un taglio vi mando un bacio